continuiamo oggi la lezione abbiamo visto l'altro giorno per quanto riguarda la gestione dei segnali in ingresso analogici l'altro giorno abbiamo visto attraverso diciamo la programmazione come si programmava un potenziometro il quale era lo scopo di questo di questo strumento praticamente cosa abbiamo detto l'altra volta l'altra volta abbiamo detto che attraverso un potenziometro era possibile gestire in ingresso su una porta analogica che vedete qui in basso che è diverso dalle porte digitali che sono quelle in alto che siamo abituati ad usare in precedenza abbiamo visto come è possibile in ingresso in una porta analogica far arrivare un opportuno segnale attraverso un potenziometro che permette di differi dice di distinguere il segnale in ingresso e non è più uno zero uno ma un numero che va sì dimmi sì allora quindi come abbiamo detto l'altra volta va bene attraverso il potenziometro andavamo a gestire un segnale in ingresso variabile che siccome Arduino come abbiamo detto gestisce solo o meglio elabora solo segnali digitali cosa fa Arduino converte il segnale analogico in segnale digitale lo numera e ci rende in uscita in ingresso a questa porta un numero noi attraverso questo numero possiamo poi andare a scegliere attraverso comandi opportuni chiaro le operazioni da far fare al nostro sistema quindi in uscita possiamo quindi attraverso un segnale in ingresso gestire un segnale in uscita brevemente giusto per capire come funziona a livello di strumento in potenziometro e come utilizzarlo cosa rappresenta il potenziometro il potenziometro rappresenta attraverso una resistenza che io la voglio rappresentare in rosso attraverso una resistenza che si sviluppa lungo una circonferenza io ho proprio un puntatore collegato con la rosella e comanda in potenziometro e quella permette di fare la regolazione ho a questo punto un circuito elettrico va bene in cui io cosa faccio qui invio la corrente probabilmente siamo un circuito in questa maniera dove qui ho una resistenza variante quindi variando la resistenza questo poi lo imparerete a fare non so se già ve l'hanno fatta a fisica lo farete il prossimo anno sicuramente c'è una relazione la legge di Ohm emette relazione la tensione con la resistenza e con la corrente che scorre nel circuito noto la corrente che circola nel circuito nota questa è la sollecità cioè quello che viene inserito dall'esterno se io vario la resistenza vario anche la tensione che leggo con uno strumento opportuno con un volmetro quindi cosa succede? varare la resistenza io posso leggere un valore di volt diverso chiaro? quindi leggo come varia il voltaggio in funzione alla variazione di resistenza che io genero a parità di corrente che circola nel circuito in ultima analisi che cosa faccio? siccome il nostro Arduino divide tutto attraverso i bit i 1024 intervalli la porta in ingresso che cosa misura? misura gli intervalli di tensione che entrano all'interno della porta su cui collegato il potenzione o meglio io so che Arduino massimo può leggere 5 volts se lo divido in 1024 intervalli fa 5.000 5 volts quindi 5.000 mille volts diviso 1024 divido la lettura del segnale in ingresso in intervalli di 5,88 mille volts leggo il voltaggio che entra nella porta pin mettiamo entri un volts a questo punto divido un volts diviso 5, quindi un volts sarebbe 1000 diviso 5,88 mille volts e in questa maniera se entra 1000 trasformo questo segnale che entra con 1000 volts in un numero che è 1000 diviso 5,88 e attraverso questo via via io ruoso questo puntatore aumentando la resistenza vado ad aumentare il segnale in ingresso e quindi ad aumentare il numero che leggo nella porta in questione tutto chiaro? Poi avete dei dubbi? tutto chiaro? Avete dei dubbi? Bene stin facendo quindi che cosa succede? Se io prendo il mio potenziometro vedete la rosella famosa che girando varia la resistenza a questa circonferenza lo collego alla terra e alla corrente che gli viene data io cosa andrò a leggere nella porta per esempio A2 a seconda di come ruoto questa questa rotellina andrò a leggere nella porta A2 un numero che va da 0 a 1024 intervalli quindi per fare il codice cosa devo fare devo definire una variabile chiamata potpin questo come ho sempre fatto eventualmente la devo dichiarare il define fa anche la dichiarazione ma se voglio essere sicuro lo posso anche dichiarare una variabile in intera perché alcuni software dichiarano voglio una dichiarazione comunque vado poi a definire la porta su cui potpin verrà letta e la porta analogica A2 a questo punto dichiaro una variabile val e entro dentro il setup il setup è fatto a questo punto a parte del serial begin e mi permette di fare la diagnosi di lettura dell'effettivo segnale che il potenziometro mi dava devo dichiarare attraverso il pin mode che la porta io ho dichiarato potpin e che è la porta A2 è una porta di ingresso dove entra effettivamente un segnale analogico a questo punto entro nel loop leggo e assegno alla variabile val il valore letto nella porta A2 e vado a stampare il valore per farmi capire se effettivamente la variabile val ha attribuito il valore del potenzioso ritardo 150 millisecondi e ricomincio la lettura del potenzioso questo perché per permettere durante il movimento di leggere un valore che sia stabile infatti se avvia la simulazione io leggo il valore del potenziometro e se vado ad agire sul potenziometro questo valore vedete va ad aumentare finché quando arriva in massimo effettivamente legge 1023 1023 perché si parte da 0 quindi sono 1024 intervalli se effetto il potenziometro e lo metto nella posizione di 0 ovviamente mi legge un valore nullo chiaro? quindi vado a leggere un valore che varia quindi varia a seconda di dove il puntatore tocca la resistenza in base al valore di tensione che legge in ingresso la mia porta dividendo un intervallo di 5,88 millivoltz e una volta io l'ho diviso in intervallo di 0,5 ho ottenuto una conversione dell'analogica del segnale analogico in segnale digitale attraverso il numero leggo quanti intervalli di 5,88 millivoltz riempie la tensione che entra nella porta A2 una volta fatto questo mi posso sbizzarrire a fare qualsiasi programma immaginiamoci ora facendoci prendere dalla fantasia un'esercitazione utilizzando appunto la gestione dei segnali in ingresso facciamo un'esercitazione un po' più facile partiamo con una facile tutto chiaro? quindi riapitolando giusto per permettere a tutti di capire quello che abbiamo fatto ho dichiarato le variabili delle luci dopo averle opportunamente legate alla porta 11 12 e 13 ho definito il pot pin che è quello che già era definito del potenziometro ho definito le porte delle tre luci verde giallo e blu nell'ordine in cui l'ho opportunamente collegate poi vado a definire attraverso il setup le tre porte di ingresso che si aggiungono a quello che avevo già definito il potenziometro quindi vado in modifica del precedente programma che già prevedeva questo quindi vado a leggere le tre variabili e gli do e gli assegno a queste tre variabili edw edg edb l'istruzione di segnale di uscita a questo punto entro dentro il programma e avrò utilizzando la variabile val che attraverso il programma precedente aveva e riceveva il segnale del potenziometro vado a gestire attraverso gli if le accensioni o meglio quando il potenziometro è a una forza inferiore a un terzo come voleva l'esercitazione ho tutte e tre le luci spente quindi attraverso un if vado a spengere le tre luci quando la variabile val prende un valore che va tra 341 e 682 vorrebbe dire che io ho superato un terzo della corsa e condiviso l'intervallo 1024 per 3 vado ad accendere la luce verde quando il potenziometro raggiunge due terzi della corsa ovvero quando il valore va da 682 a 1020 quindi sopra due terzi della corsa accendo anche la luce gialla insieme alla verde infine quando il potenziometro affine la corsa e l'ho messo a 1020 lasciando gli ultimi tre di valore in modo da poter poter mettere anche 1022 o 1023 va bene se volete proprio arrivi in fondo o l'accensione di tutte e tre le luci si facendo ma abbiamo già visto accendo sul potenziometro io ho il controllo attraverso un segnale di ingresso che è gestito dal potenziometro dei segnali in uscita che come detto possono simulare o un ventilatore o un motore o una macchina utensile attraverso questo strumento io posso utilizzare controllare dei segnali in uscita avete dubbi? tutto chiaro? bene tutto chiaro? ho tutto chiaro? ho